È un impatto importante ma ha impatto sia per quanto riguarda la prevalenza, cioè il numero di pazienti che hanno questo tipo di patologia e soprattutto ha anche un impatto di tipo economico. Sul diabete, sul colesterolo, sull'ipertensione alcuni messaggi sono passati, ormai c'è chiara consapevolezza che questi trattamenti debbano essere continuati nell'asma e nella BPCO, c'è ancora molto da lavorare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che non esiste aderenza al trattamento se il paziente non capisce che cosa ha, che malattia ha. Non ha senso avere un farmaco efficace nel 99% dei casi se poi soltanto il 10% lo assume e quindi la ricerca in questo caso sta cambiando proprio integrando il concetto di efficacia con quello di semplicità, di facilità di essere usato. Il farmacista deve consigliare il paziente anche a usare i device e questo farmaco nuovo della Glaxo è molto più facile da usare per il paziente e quindi noi dovremmo lavorare per aumentare l'aderenza alla terapia. E quindi è fondamentale l'educazione del paziente specifica sul singolo inalatore e quindi sul singolo prodotto che lui deve assumere.